Gravissimo incidente alle porte di Faenza, il pullman che stava transitando nella propria destra, pare che abbia accidentalmente investito una persona, sono intervenuti i vigili del fuoco, l'ambulanza che stanno soccorrendo la persona. Sta soccorrendo la persona, al momento la strada è tutta bloccata e tutti i mezzi di soccorso stanno intervenendo per aiutare la persona. Nelle prossime ore vi faremo sapere maggiori dettagli.